Non significa averla superata. Come si supera una limitazione? Commento. Il capire, cioè l'essere consapevole di avere una limitazione, non significa averla superata. Capisce la mente, la coscienza comprende. Solo quando si diventa coscienti di una limitazione, dopo esserne stati consapevoli, si comprende la limitazione e dunque la si trascende.